L'Italia è il paese europeo che concede più visti ai cinesi, che sono viaggiatori con una elevata capacità di spesa, tra la più elevata per quanto riguarda gli stranieri in Italia. E' ovvio il mercato più che emergente ormai è emerso e c'è un editore che ha deciso di intercettare questo nuovo segmento con un sistema editoriale complesso, articolato, che offrirà delle evoluzioni a breve e di cui ci racconterà tutto il suo fondatore. Ovviamente parliamo di Paolo Panerai, vicepresidente e amministratore delegato di Classe Editori. Questo sistema che si chiama Eccellenza Italia, ce lo può spiegare? Lo definiamo sistema perché non è soltanto un magazine formato travel, ma è anche un'applicazione nativa ed è un sito. Quindi diciamo che fin dall'inizio sposa le tre possibilità che oggi ci sono di comunicare. Ed è un sistema perché in realtà la carta può fare quello che fa, avendo anche vantaggi però di essere facilmente consultabile. Nel formato travel si può portare facilmente in borsa, mentre l'applicazione dà la possibilità di introdurre filmati, di introdurre cataloghi dei prodotti eccetera, quindi amplifica moltissimo la comunicazione per chi fa pubblicità. Il sito ha la dinamica di un sito, quindi con informazioni che possono essere aggiunte di volta in volta, che ci sono elementi interessanti, aggiornamenti per quanto riguarda che cosa un cinese può fare in Italia. Questa è un'iniziativa che nasce insieme a Chinua, l'agenzia nuova Cina, che è il gruppo più importante nel mondo editoriale in Cina, 16 miliardi di dollari di fatturato, è controllato direttamente dal governo. Oltre ad essere l'agenzia fondamentale del paese, controlla direttamente la proprietà del 40-45% dei quotidiani e distribuisce anche contenuti multimediali, televisivi, alle televisioni locali, che non sono locali come si intende in Italia, avendo comunque un bacino di milioni e milioni di telespettatori, basta pensare a quella di Shanghai. In sostanza con Chinua abbiamo varie iniziative, sono nate da una fortunata intervista che io feci nel 78 a Deng Xiaoping, in occasione dell'anniversario dei 90 anni di fondazione del Partito Comunista, l'agenzia nuova Cina, con il canale televisivo CNC, che copre tutto il mondo, una sorta di CNN, decisero di sentire le varie persone che negli anni avevano avuto contatti diretti con Deng Xiaoping, in Italia eravamo in tre, io, Oriana Fallasci, a cui organizzai l'intervista dopo che l'avevo fatta nell'occasione della missione economica con il ministro Ossola, quando l'Italia fu il primo paese a finanziare la Cina con 3 mila miliardi di lire, oggi sembra paradossale ma è così, e in sostanza l'altro era Michelangelo Antonioni, i due non c'erano più purtroppo quando sono venuti a cercarli, quindi ho avuto ampio spazio nel documentario che hanno fatto, e da lì poi è nato l'invito del presidente che ha il rango di ministro dell'agenzia nuova Cina ed è partita questa attività. In pratica noi stampiamo 150 mila coppie in Cina ogni due mesi, anche se non con la periodicità esatta, perché andiamo a cogliere i periodi di maggior movimento turistico quando ci sono le festività e quindi i cinesi si muovono, e 50 mila coppie in Italia. Vanno direttamente a coloro che chiedono il visto, ha detto bene che l'Italia è il paese che dà più visti in Europa, 300 mila nel 2012, quest'anno sono attesi 500 mila e con la prospettiva nel 2015 di arrivare a un milione di visitatori cinesi, questo dà la dimensione della grande opportunità che c'è. Mi risulta anche che il potere di spesa individuale mediamente si aggira intorno agli 11 mila euro, quindi per immagino non... Anche di più, diciamo che ovviamente il ceto che viaggia di più è sicuramente quello dei miliardari, ce ne sono tanti, poi dopo il ceto medio-alto che ha comunque una capacità di spesa notevole, tutti quelli che viaggiano viaggiano con la prospettiva di comprare anche e di godere anche però delle cose che può offrire l'Italia. Sfortunatamente non c'è il volo, ci sono voli diretti se non delle due linee aeree cinesi che vengono in Italia, quindi molti sono costretti a passare, a entrare nell'area Schengen da Parigi o da Francoforte e questa è una perdita significativa. Però l'idea qui è stata quella di fare quanto l'evoluzione dei mercati sta indicando. I consumi in Italia sono molto bassi, la pubblicità è in ribasso, abbiamo pensato di fare questa iniziativa a partire dall'ottobre scorso e l'abbiamo preparata nell'estate per poter offrire non solo ai grandi marchi che sono tutti presenti sul nostro sistema di comunicazione ma anche alle regioni, alle aree geografiche di interesse, agli artigiani di grande qualità con pubblicità classificata, un sistema che appunto faccia conoscere nel dettaglio l'Italia. La valenza è anche poi ovviamente in Cina per coloro che hanno già una distribuzione in Cina o anche per coloro che vogliono averla per il semplice motivo che c'è la curiosità di lettura anche quando il giornale viene distribuito lì. Distribuito, come dicevo, a coloro che chiedono visto questo in partnership con la Fondazione Italia-Cina che ha l'incarico dai due ministeri degli esteri, italiano e cinese, di selezionare i documenti per poter assegnare i visti. Abbiamo la partnership con tutti i più grandi operatori turistici che sono i nostri partner e quindi, eccoli qua, CAISA, CITS e via di questo passo e quindi quello è proprio lì. Poi vanno nelle lounge degli aeroporti, sugli aerei, in partenza dalle tre principali città, Pechino, Shanghai e Canton. E poi dopo, la cosa molto importante è che la distribuzione digitale viene fatta con richiami e connessioni attraverso il sito di Cina e anche attraverso la Bank of China, nelle cui filiali di private banking c'è la distribuzione fisica delle coppie ma poi mandano ai loro clienti l'indirizzo dell'applicazione o del sito. Però questa è una delle nostre iniziative per la Cina. La Cina la seguiamo non soltanto personalmente da tantissimi anni e quindi stiamo guardando come si può sviluppare molte altre iniziative. Siamo i referenti delle istituzioni cinesi nel settore del fashion, quindi China Garment Association, China Fashion Association. Abbiamo fatto anche recentemente in occasione di Chic, che è la più grande mostra di abbigliamento che c'è in Cina. Abbiamo fatto un'installazione che ha riscosso grandissimo successo. Eventi, facciamo il Milano Fashion Global Summit, l'abbiamo fatto in Cina, lo rifariamo in Cina. Abbiamo organizzato un sistema insieme a Chinua, che credo sia molto importante, di televisione ad hoc per gli eventi che si verificano qui. In occasione del Salone del Mobile abbiamo offerto ad alcuni dei principali marchi la possibilità di realizzare servizi in cinesi in collaborazione fra le nostre truppe e quelle dell'agenzia Chinua e in particolare della loro televisione, che poi vanno distribuiti in tutto il paese. Oltre a questo abbiamo programmi di edizione dei nostri giornali. In Asia siamo già con la decima edizione di Gentleman presenti in Corea. e dalla Corea adesso stiamo andando in Cina. Per la verità, per quanto riguarda Gentleman, siamo a ottobre e esce anche il numero messicano. Uno pensa al Messico, quello con il sombrero che sta lì a perdere tempo, più in vigore, ma soprattutto lo è per quanto riguarda la pubblicità, che cresce al 30%. Quindi nella nostra dimensione medio-piccola stiamo cercando di internazionalizzarci sempre di più e di cogliere le opportunità che i paesi in via di sviluppo, ormai accelerato sviluppo, stanno offrendo.